Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History. Welcome to Radio Giano Public History. Bienvenue all'écoute di Radio Giano Public History. Willkommen loite by Radio Giano. Feel spas. Bene amici ascoltatori di Vite Parallele, benvenuti a questo nuovo episodio che oggi eccezionalmente si occuperà di turismo. Il turismo vuol dire economia, ricreazione, cultura, incontri e integrazione. Ne parleremo con il dottor Pasquale Criscuolo, segretario e direttore generale del comune di Parma e con il dottor Ivan De Beni, presidente federalberghi Garda Veneto e per un decennio sindaco del comune di Bardolino, bellissima località sulla scuola Gardesciara Veneto dalla quale vi parlo tutte le settimane. Buonasera dottor Criscuolo, buonasera dottor De Beni. Buonasera a tutti voi, grazie per l'indito. Grazie a voi per la partecipazione perché so che il tempo insomma per voi è importantissimo, avete i vostri impegni. Allora io direi di fare un velocissimo stacco, velocissimo, velocissimo, poi cominciamo la puntata, vai Marco con Alfresco Trabant 33. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History. Bene, bentornati a Vite Parallele Radio Giano Public History, il turismo, visione, progetti, presente e futuro. Allora cari Pasquale Criscuolo e Ivan De Beni, questo episodio mi è stato ispirato, volevo fare una premessa, da un'intervista che il dottor Criscuolo appunto ha rilasciato a una tv privata di Crotone, che è la sua città natale, nella quale appunto parla della sua esperienza professionale da cittadino del sud che presta appunto la propria opera in comuni importanti del nord Italia. Quindi vi faccio la prima domanda per addentrarci appunto nel vostro mondo. Qual è il compito oggi, nel 2023, nel terzo millennio, di un segretario generale direttore del comune o del sindaco di un piccolo comune o di una grande città? Qual è oggi? Cioè quali requisiti deve avere un amministratore pubblico e quali sono le priorità che deve inseguire? Prego Pasquale Criscuolo. Ma è domanda che meriterebbe una risposta di un paio di ore. Cercherò di essere molto sintetico. Ma sicuramente il ruolo che oggi deve esercitare un amministratore pubblico e quindi le funzioni che è chiamato a svolgere sono funzioni non più di ordinaria amministrazione ma di straordinaria amministrazione. E' sempre più richiesto agli enti locali e agli enti territoriali, quindi parliamo di province, comuni e regioni, il compito di individuare percorsi e strategie che possano portare sviluppo ai territori da questi amministrati. Quindi gli enti locali e territoriali non più sono erogatori di servizi ma come coloro che sanno assumere il ruolo di registi e nello sviluppo di un territorio sapendo creare rete con le associazioni, gli stakeholder qualificati, mi riferisco alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, agli istituti di credito, al terzo settore, al mondo delle imprese per creare un sistema territoriale di città che sappia essere attrattivo e competitivo non solo dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista economico muovendo tutte quelle leve, quegli strumenti che oggi possono essere messi in campo per attrarre impresa, per attrarre esercizio di protezioni, università, turismo. Quindi il nostro è un paese meraviglioso, attenzionato da tutto il mondo. Dobbiamo fare questo salto di qualità anche semplificando non solo l'azione amministrativa, quindi la burocrazia, ma il sistema legislativo e mettere in condizione le pubbliche amministrazioni, in particolare quelle territoriali, di svolgere queste funzioni. Oggi fa la differenza per chi vuole fare impresa trovare un territorio che lo sappia accogliere, che lo sappia accompagnare con tempi veloci di autorizzazione, con modalità di azione amministrativa belle, con agevolazioni tributarie, con la presenza di infrastrutture strategiche. Da ultimo proprio il governo ha ritenuto presenza proprio in questi giorni, grazie anche alla nulla osta dell'Europa, di estendere la ZES del Mezzogiorno d'Italia, quindi andando oltre le otto ZES già territorialmente individuate, estendendola tutta il Mezzogiorno d'Italia, proprio per creare le condizioni di semplificazione amministrativa, di benefici fiscali, di tempi veloci di autorizzazioni, perché questo fa la differenza. Quindi rispondendo alla domanda, un sindaco o un'amministrazione, una struttura che collabora e gli supporta nell'attuazione delle politiche, devono avere questa grande missione di sviluppo di un territorio, che sappia tradursi in obiettivi, in progettualità, che sappia esercitare finanziamenti, che sappia attuare tutte queste politiche in tempi rapidi. Ivan De Bene? Allora, innanzitutto condivido al 100% tutto l'intervento di chi mi ha preceduto, specialmente sotto l'aspetto della velocità, reattiva nelle decisioni e tutto quello che riguarda la progettualità da prendere. Io parlo per esperienza acquisita, ho fatto sì e sono un imprenditore che ha fatto il sindaco per 10 anni in un paese di 7 mila abitanti, ma che 7 mila abitanti d'inverno e d'estate raggiungiamo ai 35 mila presenze. Il Comune di Bardolino raggiunge alla fine della stagione 2 milioni di presenze turistiche, ecco, nel contesto provinciale che ne fa 12 milioni, capite bene che è un bel numero. Quindi le dinamiche devono essere quelle che vanno incontro a chi ci visita, però nello stesso tempo salvaguardare il cittadino e quindi trovare la giusta combinazione tra chi vive e chi ci visita. Perché comunque il turista, se trova una comunità gradevole, sana e accogliente, è sicuramente un plus anche per il sistema economico. Se invece trova una comunità stressata dallo stesso turista, cominciano i problemi. Quindi il sindaco, secondo me, a parer mio, ma è un'analisi che sto facendo, che ho fatto, deve innanzitutto capire quelle che sono le dinamiche imprenditoriali e specialmente sotto l'aspetto della gestione del personale. Il Comune è un'azienda sicuramente diversa dall'azienda privata perché ha le sue dinamiche, la sua burocrazia, le sue tempistiche dettate dalla legge, dei provvedimenti che sicuramente lo vanno anche a salvaguardare. Però comunque l'imprenditore può incidere, può portare degli schemi da adattare all'interno dell'azienda pubblica, del Comune nello specifico. e questo è quello che io ho provato e senza peccare di presunzione in certe cose non sono andate bene, però in certe cose ho visto che ha funzionato. Quindi ecco, in buona sostanza, credo che funzionano meglio i Comuni alla cui amministrazione, se non è proprio il Sindaco, all'interno della Giunta o comunque della maggioranza ci sia una componente che sia riconducibile all'imprenditoria, all'economia. Perché, come ho detto prima, le dinamiche possono essere sicuramente vincenti e portare dei bei risultati su quello che dicevo prima, cioè la giusta proporzione tra chi vive e chi ci visita. Assolutamente. A proposito delle vostre esperienze professionali, nell'intervista appunto del dottor Criscuolo hai evidenziato appunto come da lui è stato anche direttore appunto del Comune di Genova il Segretario Generale del Comune di Genova dopo appunto il tragico evento del Ponte Morandi. Però proprio da quel ponte, grazie proprio alla cederità, alla sinergia, all'unione di intenti tra lui, il Sindaco e anche il Commissario Extraordinario, diciamo che c'è stato il rinascimento di Genova. Io volevo chiedere sia a Pasquale Criscuolo che a Ivan De Beni, in base alle vostre esperienze, qual è il patrimonio che vi portate dietro quando poi andate a cambiare, tipo Pasquale tu adesso lavori nel Comune di Parma, oppure Ivan De Beni adesso si dedica alla sua attività imprenditoriale e come Presidente della Federal Berghie. Quale patrimonio vi siete portati, cosa portate in queste nuove attività, in queste nuove sfide? A te la parola Pasquale. Quella, diciamo, sicuramente è stato un precedente straordinario a livello nazionale che è stato oggetto anche di studio da parte di poli universitari primari del nostro paese, ma addirittura universitari europei che hanno fatto della ricostruzione del Ponte di Genova per i tempi straordinari in cui è stato realizzato una rilevazione di buona pratica. In sintesi, quel ponte è stato fatto esplodere a luglio del 2019 e iniziato immediatamente dopo la fase di ricostruzione è stato riconsegnato alla città e al paese il 3 agosto del 2020, quindi un anno di lavoro. Un ponte lungo un chilometro e 200 metri che interseca due gallerie autostradali alto 45 metri con 19 piloni costruito con le più moderne tecnologie anche osservanti le esigenze di sicurezza. Quello è stato, diciamo, una big practice possibile grazie all'applicazione di tecniche innovative di gestione della cosa pubblica. Si parla di reingegnerizzazione dei processi e si parla di tecniche di program management e di project management che a legislazione invariata rendono possibili ridurre in maniera significativa i tempi di esecuzione. Per dire quelli sono i tempi medi di esecuzione delle opere pubbliche in Italia vanno mediamente dai 4 ai 15 anni a seconda dell'inforza e del livello di complessità di un'opera. Quell'opera è stata realizzata in un anno, un'opera che è costata 300 milioni di euro grazie all'applicazione di reingegnerizzazione dei processi e quindi di reduzione dei tempi amministrativi. Questi tempi medi di realizzazione dell'opera pubblica sono al 50% dovuti ad azione amministrativa, burocrazia. Questi tempi sono assolutamente riducibili per cui andando a individuare quali possono essere i margini di miglioramento dell'azione amministrativa agendo in parallelo e non in sequenza. Andando a individuare quali sono i tempi morti dell'azione amministrativa, le possibilità di interazione di automativi che scattano tra settori diversi che sono coinvolti nella realizzazione di un'opera pubblica, i tempi si possono anche dimezzare. Allora, cosa mi porto dietro di quell'esperienza? Mi porto dietro che quell'esperienza è assolutamente replicabile, mutuabile in qualsiasi pubblica amministrazione italiana, a legislazione invariata. Il problema del nostro Paese, lo stiamo vedendo anche nel CNRR, noi continuiamo a produrre disegni di legge, a produrre leggi di semplificazione amministrativa che va bene che ci siano, ma fin tanto che non avremo modelli organizzativi e modelli operativi in grado di tradurre quelle disposizioni legislative di semplificazione amministrativa in operatività concreta, questi provvedimenti legislativi non avranno la dovuta efficacia. Quindi il reale problema è, oltre alla produzione di legislazione che va nella direzione della semplificazione amministrativa, dello snellimento della procedura e delle riduzioni dei tempi, quello di creare le condizioni per avere delle strutture amministrative che siano in grado poi di tradurre quelle disposizioni, modelli organizzativi e operativi che consentano a quelle disposizioni di essere efficaci. Sul CNRR noi stiamo vedendo che diciamo c'è una forte preoccupazione nel rispetto dei tempi assegnati dell'Europa di realizzazione delle opere pubbliche in tempi ristrettissimi avviano delle strutture di missione che sono state costituite a livello centrale per supportare tutte le pubbliche amministrazioni del nostro paese quelle strutture di missione dovrebbero avere il compito anche oltre che assicurare una semplificazione a livello centrale perché molte volte ci sono ministeri che agiscono con modalità diverse con circolari diverse con procedure diverse quindi si crea una complicazione a livello poi attuativo ed esecutivo che potrebbe essere evitata quelle strutture dovrebbero avere anche il compito di individuare dei modelli omogeni da proporre alle pubbliche amministrazioni del nostro paese che siano funzionali a un arvelimento reale e a una riduzione dei tempi io sto portando a Palma questa esperienza abbiamo individuato come obiettivo strategico di ente quello di reingegnerizzare 23 macro processi uno di questi è proprio quello relativo alla realizzazione delle opere pubbliche perché l'intenzione è individuare quali sono le criticità nelle fasi di avanzamento del processo di realizzazione di un'opera pubblica individuare dei correttivi e quindi abbattere in maniera significativa i tempi di istituzione bene Ivan De Bene cosa ti porti di questa esperienza decennale come sindaco di Bardolino e qual è il tuo fiore all'occhiello di questa esperienza allora diciamo che è stata un'esperienza molto profigo molto interessante se fatta bene se fatta con impegno posso garantire che è una grande esperienza quella di poter avere l'onore di amministrare il proprio comune di tutte le cose che mi sono portato dietro diciamo che ho ereditato da questa esperienza quella che più mi ha mi è piaciuta è essere avere avuto l'opportunità di conoscere perché io avevo la delega alla pianificazione del territorio all'urbanistica no l'ufficio edilizia privata quindi le dinamiche di che conseguenti a tutto quello che riguarda appunto l'urbanistica la pianificazione del territorio del proprio comune perché dico questo perché finché sei un imprenditore che sei fuori dalla macchina pubblica non so a te serve farti un appartamento un albergo eccetera ingaggi il professionista il professionista fa tutto il suo iter si interfaccia con l'ente pubblico però il più delle volte l'imprenditore non capisce la lentezza perché la lentezza perché prima di vedere realizzato un progetto che magari a sua detta è anche bello e anche utile per il territorio ci sono tutte queste miriadi di passaggi da fare e ecco lì è stato molto interessante e devo anche ringraziare il capo area l'architetto franco dellaini che purtroppo non c'è più con noi però è stata una bellissima persona che mi ha insegnato tanto mi ha preso sotto braccio e mi ha fatto capire con l'importanza della pianificazione del territorio il grande principio della salvaguardia del territorio della sementificazione della sostenibilità che deve essersi all'interno di un territorio specialmente a vocazione turistica quindi lì ho acquisito tutta questa esperienza queste conoscenze che dopo mi sono servite anche mi servono tutt'oggi più che altro per capire anche dato che federali belchi che io adesso presiedo raggruppa tutta la sponda veneta del lago di garda quindi da malcesine fino a peschiera riesco a entrare in quelle che sono le dinamiche urbanistiche dei singoli comuni e riesco più delle volte a contestare eventualmente certe scelte che vengono intraprese su quello che è il consumo del suolo perché noi siamo arrivati a un punto molto delicato che è quello di proteggere il nostro territorio e non innanzitutto non svenderlo ma nello stesso tempo non consumarlo troppo eccessivamente perché una volta confumato non si torna più indietro e dobbiamo fare adesso ultimamente si parla tanto di affollamento sovraturismo di numero chiuso tutti quanti voi avrete visto nelle grandi città d'arte Venezia Firenze è un boom esatto quella cosa lì quel fenomeno lì non porta bene né al turismo e né al cittadino e dobbiamo fare proprio molta attenzione a questa cosa perché potrebbe implodere il sistema e quindi come è successo in altre grandi destinazioni tipo in Spagna o anche quello che sta succedendo anche in altre zone potrebbe accadere che i numeri cominciano a decrescere perché perché il turista è giustamente dinamico e sceglie località esclusive ma nello stesso tempo anche dove può godersi in passi le proprie ferie interagire con la cittadinanza e quant'altro ecco quindi rispondendo alla tua domanda è stato molto utile ad entrarmi in quel aspetto lì e devo dire che da imprenditore mi sono anche un po' ricreduto nel senso che da colui che puntava al primo posto metteva l'investimento la realizzazione di nuove strutture alberghiere eccetera mi sono dovuto giustamente ricredere e attualmente porto avanti una linea che è quella di dire non costruiamo più ex novo recuperiamo quello che è l'esistente valorizziamo quello che c'è ma assolutamente siamo arrivati a un punto io parlo per quanto riguarda la destinazione dell'anno di garda dove va aperta una riflessione dove non si deve più ricostruire o comunque consumare il territorio altrimenti saranno guai ecco potrei inserirmi in questa discussione assolutamente volevo fare così condividere questa riflessione sappiamo tutti che l'Italia possiede il più grande patrimonio artistico e culturale del mondo abbiamo 3.400 musei 2.100 parchi archeologici 43 siti unesco 7.500 chilometri di costa il nostro paese diciamo dovrebbe essere in assoluto il paese con i più grandi numeri di visitatori e di turisti a livello mondiale mi pare che siamo non siamo neanche nelle prime tre posizioni in Europa se non ricordo male siamo al quarto o al quinto posto quindi dovremmo essere i primi al mondo invece non siamo neanche i primi in Europa evidentemente c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che va rivisto nel termine proprio in termini di visione di come può essere in qualche modo resa ancora più attrattivo e competitivo il nostro territorio che lo è già in maniera naturale grazie alla storia che ci ha consegnato questo grande patrimonio artistico il fatto che ci siano questi numeri ci dovrebbe far riflettere su quali devono essere le azioni gli strumenti che bisogna mettere in campo per accrescere l'enorme potenziale di visitatori a questo proposito per esempio il governo so che sta lavorando anche su un altro tema molto importante che è quello dell'economia del mare i nostri 7500 chilometri di costa producono un'economia che vale 140 miliardi di euro ma che potrebbe valere 10 volte di più sia in termini turistici sia in termini di politiche industriali trentamente connesse legate all'economia del mare abbiamo zone del sud Italia che fanno turismo nei mesi di luglio e agosto potrebbero fare turismo da maggio ed ottobre abbiamo zone del nostro paese in cui il mare vicino alla montagna e quelle zone turistiche potrebbero vivere 12 mesi all'anno e solo per fare degli esempi abbiamo ancora purtroppo in alcune parti della popolazione la cultura che la spesa in cultura è un costo non un investimento che genera beneficio e valore quindi secondo me dalla riflessione che può nascere nella lettura di questi numeri dovrebbe nascere proprio una visione diversa completamente diversa rispetto a quelle che devono essere le politiche a livello nazionale e le politiche a livello territoriale per attrarre turismo e quindi per attrarre economia Vite Parallele è una rubrica di Radio Giano Public History ideata e condotta da Katia Simone Posso allora poiché mi hai anticipato Pasquale da cittadina mi chiedo questa riqualificazione da nord a sud di aree architettoniche paesaggistiche archeologiche che sono fonti di richiamo per migliaia di turisti potrebbero creare anche tantissimi posti di lavoro nel settore culturale come si può fare una cosa del genere come si possono attrarre i giovani e parliamo anche perché quello è un servizio a me è capitato tante volte di andare in Sicilia in Puglia ma anche non so del centro Italia e di vedere parchi archeologici chiusi chiese monasteri per mancanza di personale e questo è assurdo secondo me se posso intervenire vai 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 è verissimo quello che avete detto finora c'è tantissimo lavoro da fare io alle volte sono veramente molto triste nel vedere come il nostro sistema Italia non funziona come dovrebbe funzionare o come merita di funzionare è vero quello che si diceva prima pensate che mi è capitato poco tempo fa di vedere un report che ha consegnato Federialberghi nazionale dove praticamente l'Italia nel momento in cui uno si sede davanti al computer e cerca il posto dove andare in ferie l'Italia è quello cliccato immediatamente quello che balza subito a di più elevato numeri a livello mondiale di visitatori sui siti dove uno comincia a vedere dove vuole andare in ferie che destinazione scegliere eccetera eccetera poi improvvisamente c'è un buco nero perché dal scegliere oppure visitare a scegliere effettivamente noi passiamo al diciassettesimo posto quindi c'è un qualcosa di sbagliato anche sotto l'aspetto della promozione dove noi perdiamo un grande potenziale una grande potenziale cliente che inizia a visitarsi e poi dopo sceglie o gli Stati Uniti o la Francia o va da qualche altra parte quindi c'è tanto lavoro effettivamente da fare assieme a quello che si diceva prima per quanto riguarda il mare so che l'attuale governo si sta spingendo anche a valorizzare i piccoli borghi noi abbiamo nel centro Italia e specialmente anche nel sud non c'è solo mare o montagna o laghi ma ci sono tanti piccoli borghi caratteristici che stanno attirando che stanno attirando attenzione a grosse fette di fette di mercato questo è anche un potenziale come dicevi te Katia per assumere nuove persone quindi dare posti di lavoro ma ridare far riacquistare dignità a quella che è la storia dell'Italia i piccoli borghi i piccoli comuni le caratteristiche i piccoli le piccole il salve di paese e tutto quello che riguarda anche la cultura e le tradizioni quindi ripeto volendo se ci fosse veramente la volontà il turismo italiano siamo soltanto ancora a una parte potrebbe ancora svilupparsi ancora di più veramente c'è tanto potenziale poi su quanto riguarda i giovani per quanto riguarda i giovani nel nord Europa si stanno forzando quelli che saranno i manager dei prossimi tour operator e attenzione il prossimo turismo sarà quello ecosostenibile cioè lo slogan che verrà usato dai nostri ragazzi quelli che si chiamano la generazione Z è viaggiare senza sporcare quindi c'è anche questo tema e l'Italia potrebbe veramente anche qui dare un contributo importante su tutto quello che riguarda lo slow il turismo lento il godersi la passeggiata la bicicletta piuttosto che tante altre cose c'è tanto lavoro come ho detto prima tanto Pasquale Criscuolo tu ti occupi anche di formazione giusto amministrativa sì sì come si fa in sondere passione e fiducia in questi giovani io parlo di amministrazione parlo di di posti nel settore culturale parlo anche della ristorazione che purtroppo oggi ha tanti lapune perché tanti ristoratori albergatori si trovano in difficoltà a causa della mancanza di personale della mancanza di formazione come si può avviare a questi problemi ma sicuramente va analizzato un territorio e quindi individuati quali sono i punti di forza di eccellenza di un territorio e creare delle filiere che partano dalle scuole fino a diciamo al sostegno al mondo delle imprese in termini proprio di formazione di personale di manodopera qualificata faccio un esempio in provincia di Parma vabbè il tessuto economico di Parma e della provincia di Parma è tra i più forti d'Italia Parma è la seconda città in Italia per reddito pro capite e la quarta provincia d'Italia in valore di esportazione all'estero faccio l'esempio per esempio di un'impresa automobilistica siamo quindi nell'ambito non solo dei food valley agroalimentare ma parma a questo proposito è città unesco della gastronomia oltre a essere città della musica verde il teatro reggio è anche inserita nel circuito della motor valley è un circuito famoso in Emilia Romagna che non vede presente solo la Ferrari ma la Ducati ma tante altre grandi aziende non faccio il nome di questa azienda è collocata in un paese nella provincia di Parma dove grazie alla rugibilanza e alla visione di questo imprenditore e grazie alla reattività e alla visione delle istituzioni locali è stata creata proprio una filiera che consente a questa impresa di avere mano d'opera qualificata e di avere quindi i ragazzi di quella zona della provincia di Parma l'opportunità di trovare immediatamente occupazione dopo aver terminato il percorso di studi quindi parliamo di ragazzi che si diplomano in scuole specializzate a 18 anni e o comunque dopo immediatamente dopo il diploma vanno a lavorare in questa azienda dove è garantito loro un percorso di crescita professionale veloce importante e ben ritribuito adesso sto facendo l'esempio del motorvalli ma potremmo fare l'esempio anche come dicevi tu Katia prima della ristorazione come si diceva prima anche della formazione di mano d'opera qualificata per la gestione di siti culturali di musei di barchi archeologici l'esempio che facevi tu relativo alla Sicilia esiste in tante altre zone d'Italia in Calabria a Crotone per esempio Crotone antica colonia della mania grecia esiste un famontorio dove ancora esiste una colonna dorica facente per parte di un tempio risalente a diversi secoli fa un farco archeologico completamente abbandonato in altre zone d'Europa un farco archeologico di quel genere sarebbe una miniera d'oro avrebbe delle strutture dedicate a valorizzarlo a mantenerlo a custodirlo e dei giovani che potrebbero lavorare quindi la risposta la risposta è sempre avere visione capacità di analisi di un territorio le potenzialità le eccellenze costruire intorno alle potenzialità le eccellenze di un territorio un percorso che va dalla formazione al sostegno delle imprese che vuol dire produrre economia e produrre posti di lavoro assolutamente Pasquale tu hai ancora qualche minuto o devi andare via perché so che avevo un impegno sì un taglio di minuti ce li ho ancora allora Ivan volevi aggiungere qualcosa a questo discorso ma guarda allora per quanto riguarda i nostri giovani vanno assolutamente come posso dire incuriositi da quello che è il turismo e io lo farei già nelle già nelle prime nei primi anni di scuola non dico di ma anche soltanto parlando di turismo già nelle elementari nelle medie bisogna coltivare e far capire che ai ragazzi che c'è uno sbocco lavorativo importante perché turismo non è soltanto fare il cameriere piuttosto che pulire la stanza eccetera c'è c'è marketing c'è commerciale c'è tanto tante tante possibilità e noi non dobbiamo dimenticare io sono figlio di un cameriere perché mio papà ha iniziato facendo il cameriere in Germania la nostra capacità di accogliere di servire l'arte del servire noi eravamo i più importanti in tutto il mondo i nostri camerieri erano quelli che venivano assunti immediatamente sulle navi crociere piuttosto che all'estero quindi bisogna innanzitutto incuriosire i nostri ragazzi avvicinandoli ai nostri sbocchi di lavoro dopodiché vanno formati va investito anche sugli istituti alberghieri questi istituti alberghieri che il più delle volte devono fare i salti mortali per far chiudere i propri piani di studio piuttosto che i propri bilanci cerchiamo di aiutarli io sono convinto che piuttosto che andare a reperire mano d'opera da paresi extra comunitari oppure senza nulla togliere perché ci sono delle bravissime persone molto competenti però investiamo sui nostri ragazzi perché c'è veramente la possibilità di dargli dei buoni di fargli di fargli crescere in sé una consapevolezza su un proprio mestiere importante assolutamente Pasquale cosa porteresti al sud del nord cosa invidi al nord che porteresti al sud ma sicuramente la mentalità ecco la mentalità è una mentalità più proattiva più propositiva delle comunità che sappiano essere più protagoniste nell'ambito della società civile perché a volte mi spiace dirlo si si registra rassegnazione indifferenza scarsa determinazione si ripiega su scelte che molte volte dolorosamente consistano anche nell'abbandono delle proprie terre io credo che invece come in altre zone del paese d'Europa le collettività le comunità devono rendersi conto del ruolo che la partecipazione attiva può svolgere nei confronti anche delle istituzioni locali e soprattutto nell'ambito della pubblica amministrazione devo dire che comunque c'è ancora un'Italia a due velocità il fatto che nel nord Italia si riesca ad intercettare importanti finanziamenti a portarli a casa a spendere a realizzare infrastrutture che fanno poi la vera differenza perché sono quelle che sono in grado di attrarre turismo impresa la velocità la capacità in termine progettuale del nord Italia purtroppo non è la stessa del sud Italia e questo è uno dei motivi per cui continuiamo ad avere un'Italia a due velocità che è un male per il paese intero perché avere o nord o sud così importante indirettamente è un documento per l'intero paese assolutamente Iva Dei Bene invece tu del sud cosa porteresti al nord? oh mamma mia avrei una lista incredibile però diciamo che io sono innamorato del sud specialmente della Puglia portavo sempre giù sempre le mie ragazze e le mie figlie ogni anno giù in Puglia e io quello che porterei su al nord è l'accoglienza la simpatia la gentilezza del popolo del sud che forse loro non se ne rendono conto di avere nel loro DNA una una grande una grande ricchezza che noi al nord forse anche per l'influenza che abbiamo avuto sul confine con il Brenner o insomma questa siamo un po' polentoni siamo un po' ci lamentiamo siamo sempre anche un po' freddi nella cognita sì nessun qualcosa ecco e quindi mi piacerebbe che la gente qua del nord facesse un po' ogni tanto un bagno d'umiltà e andasse e andasse ogni tanto a prendere spunto a me piace tantissimo quando vado giù cioè i sud sono capaci a vendere qualsiasi cosa con una simpatia con un sorriso per noi qua non ce l'abbiamo insomma questo è portare il tuo nord quello fa parte del nostro DNA quindi è difficile è difficile Pasquale Criscuolo ti faccio un'ultima domanda che so che devi andare via ecco il tuo lavoro quando te ne sei innamorato e se per te è più una moglie o un amante oppure magari dipende dai momenti no io mi sono innamorato del mio lavoro all'inizio della mia carriera rivolgevo la libera professione a Milano ero studio legale sono avvocato diciamo nel mentre rivolgevo la professione prima di iniziare la professione in questo studio legale di Milano avevo sostenuto un concorso da segretario comunale nella pubblica amministrazione ho avuto comunicazione di averlo vinto e mi sono trovato di fronte all'obbligo di scegliere quali dei due percorsi proseguire lavoravo a Milano in piazzale Loreto ho scelto di abbracciare la carriera della pubblica amministrazione iniziando dai piccoli comuni perché la nostra carriera inizia nei piccoli comuni perché ho sempre avuto questo diciamo amore per la pubblica amministrazione che è soprattutto spirito di servizi a favore di collettività di comunità posso dire che questo questo amore della pubblica amministrazione mi ha dato grandi gratificazioni perché lavorare vedendo realizzare le cose in un territorio a favore di collettività e comunità e stando a contatto con le persone crea è un privilegio oggi per un dipendenze pubblico è quello che dico sempre ai miei collaboratori riteniamoci dei privilegiati non perché come si tende a banalizzare in alcune circostanze i dipendenzi pubblici sono i privilegiati perché ci sono tante eccellenze nella pubblica amministrazione che andrebbero riconosciute e valorizzate ma per il fatto che abbiamo proprio il privilegio di lavorare al servizio di comunità e di collettività per far crescere il nostro paese e quei nostri territori quindi alla domanda se è da considerare più la moglie o l'amante sicuramente sulla moglie allora guarda Pasquale Criscuolo io ti ringrazio mi tengo Ivan De Bene ancora qualche minuto quindi sta fermo lì ti ringrazio per grazie a voi saluto tutti i vostri ascoltatori è stato veramente un piacere essere invitato quindi vi ringrazio ancora piacere nostro e la tua voce qui è sempre accolta quindi grazie a presto noi siamo qui allora io vi saluto abituatamente ciao Pasquale grazie ciao ciao grazie grazie io farei la seconda e ultima pausa con Strade d'Italia vamos Marco e poi riprendiamo con Ivan De Bene Radio Giano Public History la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura Radio Giano Public History ci puoi trovare su spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il dottor Ivan De Bene, al quale chiedo quando ti sei innamorato del mestiere di sindaco, se lo ami più di quello dei manager e se per te è più una moglie o un amante? Grazie a tutti. Mi ha contribuito, mi ha arricchito dell'esperienza di sindaco, è stato quello di poter interagire con tutti i miei cittadini perché sono entrato in casa dove non sarei mai riuscito a entrare, ho conosciuto persone, ho stretto mani che non avrei mai stretto, ho conosciuto storie che non avrei mai conosciuto. Quindi quello per me è stato l'opera pubblica personale riuscita meglio. Quindi arrivando alla tua domanda principale diciamo che l'esperienza del sindaco è stata un amante che si è inserita nella mia vita per un periodo come spesso accade, però dopo alla fine ha vinto la moglie e cioè sono tornato a casa a lavorare alla mia scrivania. Quindi Ivan basta amanti, ti sei inserita? Ti sei inserita? Ti sei inserita? Ti sei inserita in pace? O chissà? Non so se tu mi fai questa domanda un po' provocatore. Non lo sto, ci sto pensando seriamente caracassi, ci sto pensando seriamente. Non ho ancora escludo l'idea di rientrare o ritornare, però c'è una moglie a casa quella mera, non l'azienda, quella mera che non vuole. E beh immagino perché comunque credo che sia un impegno insomma forte, un impegno a cui devi dedicare tutte le tue energie, per cui immagino che comunque per le famiglie è un sacrificio. E' un sacrificio anche per i cittadini. O sacrifichi la moglie, o sacrifichi la moglie, o sacrifichi la moglie, è una bella lingua. Allora io guarda, non voglio influenzare nessuno, però io tu lo sai insomma che è stato un decennio incredibile per Bardolino, io lo dico, io lo dico insomma, hai fatto grande il paese. Grazie. Ultima domanda, il Covid comunque ha cambiato tanto, ha cambiato le coscienze, ha cambiato anche il modo di vivere, ha cambiato la nostra mentalità, a volte meglio, purtroppo stiamo vedendo anche tanto in peggio. Che futuro vedi per Bardolino, al di là proprio della politica, come missione? E se c'è qualcosa che avresti voluto fare e non sei riuscito a fare? Ma allora, diciamo che il Covid sì, è stata una smerla incredibile per tutti, quindi a livello fisico ma specialmente a livello psicologico. Però c'è anche, è stata una smerla che come spesso accade quando prendi una smerla, dopo ti fa anche riflettere, no? Quindi diciamo che per Bardolino io vedo un futuro dove, come dicevo prima, si deve un attimino rallentare sul fatto del consumo del suolo, sul fatto di andare a stressare questo territorio troppo in termini di cemento, in termini di viabilità e quant'altro. Quindi va aperta una riflessione in quel senso lì per trovare il giusto equilibrio tra chi vive e chi viene a visitarsi. Poi per quanto riguarda qualcosa che mi è rimasto indietro, sì, devo dire che diciamo abbiamo, io sono quello che il mio fiore all'occhiello, quello che mi piace, l'opera pubblica che mi sento di poter dire che è stata una grande soddisfazione. Sono stati gli interventi nelle scuole, cioè la nuova scuola verde, nel senso verde perché è ecosostenibile, si alimenta da solo un grande energetico che abbiamo realizzato, la scuola elementare abbiamo realizzato nella frazione di Calmasino. E' collegata alla scuola la palestra che erano anni che le aspettavo. E poi la nuova scuola media di Bardolino, la riqualificazione che adesso mi auguro chi interviene dopo di me e chi verrà dopo di me se non è ancora finito. Perché tu sai che c'è la scuola media dietro quella nuova, però c'è tutto il blocco monumentale che è una scuola, è un fabbricato che ha una certa dignità, è anche una storia, è una cultura importante che va riqualificato. Quindi il mio timore è che quel contenitore lì venga abbandonato a se stesso. Invece come tutte le cose, come gli edifici, le case, bisogna intervenire velocemente, non può essere abbandonato lì. O specialmente nel pubblico, se viene abbandonato non viene più recuperato. Assolutamente. Io penso da cittadina di Bardolino, ma cittadina d'Italia, cittadina del mondo. Che bisogna avere rispetto sicuramente dei turisti, offrire loro dei servizi, ma bisogna avere il maggior rispetto per i cittadini che poi quando arriva la bruma e arriva il buio invernale vivono il paese. E quindi il paese deve essere vissuto bene. Bisogna avere rispetto dei cittadini, creare loro le condizioni sociali, culturali e bisogna, secondo me, far ritrovare anche la comunità che si è persa. Si è persa negli ultimi tempi. E soprattutto, dal mio canto, coniugare anche una certa bellezza estetica anche di ciò che si costruisce con il paesaggio. Perché bisogna avere un equilibrio. Cioè, le ville Miami, anche no, sul mare, sì. Ecco, ecco, quindi rispetto del territorio, verso questa nuova coscienza ecologica e sicuramente questo ritrovare la comunità. Buon bene. Va bene, Ivan. Io ti ringrazio. Grazie. Grazie a voi. Grazie per l'invito, Katia e noi sicuramente ci vediamo in giro. Ci vediamo in giro. Quindi appena questo episodio è in onda, lo ascolterete voi e i nostri ascoltatori. Noi ci rivediamo la prossima settimana per l'ultimo podcast di questa affossissima estate. Grazie per aver ascoltato Radio Giano Public History. Radio Giano Public History. Grazie a tutti. Grazie a tutti.